Eccoci qua, sto qui nei camerini, adesso ho pensato che per far ridere un po' seriamente mi do alle imitazioni, e adesso faccio una prima, forse unica imitazione, che è quella di Enrico Montesano, imiterò uno dei suoi famosi personaggi. Io venivo da lì, no, in così, col motorino mio, e poi lui invece veniva da là in così, mentre venivamo in così ambe due, ci si è intromesso un incrocio, allora lui nel vedermi si deve avere pensato, che io avessi pensato, che lui aveva pensato, che se fosse mannati a sbatte, mannaccia, so, va beh, respira, respira, cina, faccio più, basta, ho sentito un'altra voce, Angelo, che è successo, no, no, scusa, no, 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 adesso, Angelo, mu basta, ridammi la voce mia che me ne devo andare, no, Angelo, sei un imbroglione, ma merita, merita, perché ha fatto un'imitazione perfetta.